Musica Bentrovati spettatori e spettatrici, nuova puntata di Senza Confini, il mondo cambia, cambia il mondo. Bentrovato padre Francesco. Bentrovato a voi. Prima di leggere dalle prossime puntate e gli ultimi due comandamenti, oggi ci fermiamo per comprendere il percorso che ci ha condotto sino a questo punto. Partiamo da questo passo di Giovanni. Di nuovo Gesù parlo loro, si legge, io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Allora questa espressione padre Francesco che cosa ci indica? Il discorso è questo, cioè è una delle cose che non si capisce oppure che si fa fatica a trasmettere alla gente in generale, dico alle persone. Perché? Perché alla fine noi siamo abituati ad andare avanti con... Si va a messa perché è tradizione andare a messa, c'è un evento religioso che diventa anche un evento folcloristico, bisogna farlo perché si è fatto tutti gli anni, perché caratterizza quella realtà, quella comunità, eccetera, al di là del discorso di fede, discorso cristiano, eccetera, eccetera. Queste cose però poi alla fine non parlano alla vita delle persone, no? Non hanno effetto sulla vita della gente, se non perché io dico di essere devoto, io sono attaccato a quella cosa, mi affido, che ne so, c'ho quella medaglietta, quell'immaginetta come una specie di amuleto, lasciatemi dire questa cosa, e si chiude là. Il motivo probabilmente è anche per cui le nuove generazioni fanno sempre più fatica a fare riferimento alla realtà religiosa, all'arte accresiale. Si fanno i grandi eventi ancora, che ne so, le GMG, eccetera, però poi dopo alla fine l'evento si chiude lì, anche perché la GMG diventa un evento anche sociale, è un modo a basso prezzo per andare in posti dove non riusciresti mai ad andare, ci va in comitiva, quindi passi delle giornate con gli amici, eccetera, però poi dopo alla fine del messaggio della GMG, no? Che cosa rimane in un qualche modo nella vita di questi ragazzi, che dovrebbero essere il nostro futuro alla fine, non per ripetere cose che sappiamo? Beh, però credo che un messaggio sia loro chiaro, no? Il fatto che il cristianesimo sia relazione, e loro durante la GMG vivono relazioni. Perfetto. Vivono relazioni tra loro che si conoscono, vivono relazioni anche con persone di culture diverse. Diciamo, intanto è riduttivo dire che il cristianesimo è relazione. È anche, è anche relazione, certo, è anche relazione. Cioè mira la comunione e mira, quindi va vissuto in comunione, cioè il discorso di fede va vissuto anche a livello comunitario, oltre che personale, però poi alla fine, e quindi è importante fare... Ma se ci pensiamo anche quella personale, anche quello personale è un fatto di relazione con Dio. Sì, ma la relazione con Dio non può prescindere dalla relazione con l'altro. Questa cosa, per esempio, entra poco anche in certi modi di ragionare di quelli che si aggiustano un po' la fede a modo loro, quei cristiani che io chiamo i cristiani della lavazza, a modo mio, no? Cioè, in realtà, quello che ti viene a dire, io non mi vado a confessare, faccio un esempio, vado a confessarmi e che mi confesso direttamente con Dio. Sì, una parte può essere anche accettabile del discorso, perché comunque è Dio che ti perdona e tu devi instaurare una relazione con Dio. Il fatto che tu senta la necessità di confessarti con Dio vuol dire che riconosci di avere peccato, quindi comunque di essere un peccatore. Quindi ci sono degli elementi che si possono salvare nell'espressione, però quello che salta sempre è che quel perdono che il sacerdote ti dà nel segreto del confessionale, in realtà coinvolge sia la realtà di Dio che ti perdona, ma sia la realtà ecclesiale nella quale viene riammesso. Cioè, c'è un aspetto di comunione, c'è un aspetto ecclesiale appunto, c'è un aspetto comunitario e quindi sociale, se vuoi dirla anche in questi termini, che noi facciamo fatica a cogliere. E tu dici, sì, i ragazzi fanno esperienza di comunione, ma quell'esperienza poi di comunione trova una continuità nell'ordinario, cioè nel vivere di tutti i giorni. Questo è il problema, perché poi si va al grande evento e poi si sparisce dalla circolazione. Quindi il discorso è perché si sparisce, perché si fa fatica a seguire un percorso. Noi stiamo dicendo ormai già da qualche tempo che il Covid ha creato di fatto una frattura. Sicuramente è significato per noi una sorta di spartiacque, è diventata una sorta di spartiacque. tra quello che c'era prima e quello che viene dopo. Non solo nella realtà ecclesiale, nella realtà di chiesa, ma in generale nella società. Nella società, sì, sì. Ha compromesso la socialità, che già era malata di per sé probabilmente. Sì, anche qua non lo so se possiamo utilizzare il termine compromesso, perché così stiamo già dando una connotazione negativa. Cioè, io dico semplicemente, c'è una cosa diversa. Se oggi però vediamo tante solitudini, e queste solitudini poi portano anche ad eventi negativi, per me ha una connotazione negativa. Per questo parlo di... Sì, però quello che ti voglio dire è... Compromissione. Diciamo, l'ha compromesso il Covid, oppure già questa compromissione c'era? Ecco perché qui si aprirebbe un discorso molto vasto, perché poi... E dovremmo poi essere un po' generici o superficiali, per cui non andremo da nessuna parte. Anche perché non abbiamo gli elementi per poter valutare davvero la situazione. È troppo vicino a noi, ci siamo dentro, le cose sono in divenire. Facciamo fatica ad inquadrarle, secondo me, anche nei grandi dibatti, nelle discussioni, negli articoli, insomma, più o meno scientifici. Quindi si fa fatica un po' a inquadrare davvero la situazione. Però quello che sicuramente noi notiamo oggi, che cos'è? È che questo è un dato di fatto, cioè noi vediamo che c'è un allontanamento generale dalle funzioni ecclesiali, cioè le aule liturgiche, le chiese, sono vuote, cioè almeno si sono svuotate, cioè non abbiamo più i numeri che c'erano prima. Questo è sicuro. Da che cosa dipende? Sicuramente c'è stata una affezione al contrario rispetto alla realtà ecclesiale, perché prima tu sapevi che dovevi andare in chiesa per forza, se volevi vivere il tuo momento di fede, no? Il tuo incontro settimanale almeno con il signore. Dopo hai imparato che questa cosa potevi farla tranquillamente da casa, quindi è diventato comodo, è diventata una specie di McDrive, no? Quindi ti veniva fruito attraverso i canali social, i canali televisivi, mezzi di comunicazione, strumenti di comunicazione, e quindi ti sei abituato, quindi disaffezionato a dire ma chi me la fa fare a muovermi da casa per andare a quella cosa? Me la fruisco da casa e mi trovo anche l'evento che più mi aggrada all'ora in cui mi aggrada, anzi addirittura se potessimo avere la messa on demand sarebbe ancora più comodo, dimenticandoci che appunto poi quella celebrazione, la celebrazione sacramentale, e quindi almeno che l'evento si svolga in diretta, per cui che ci sia una compresenza, una compartecipazione nello stesso tempo di quell'evento, almeno quello dovrebbe essere salvaguardato. Però io quello che dico è questo, per cui sono partito da questa espressione, cioè tu sei partito a ricordare quell'espressione del Manzero, io sono la luce del mondo, cioè Gesù Cristo si pone come il faro della tua vita, cioè come la luce che è in grado di illuminare la tua esistenza, quindi non solo di dare senso, perché non è quello il significato espresso di quella frase, ma si pone come colui che può fare chiarezza agli elementi che caratterizzano la tua vita, e facendo chiarezza, dandoti la possibilità di fare chiarezza, quindi di vederli in chiaro, ti dovrebbe dare la possibilità di meglio poter decidere che direzione dare alla tua vita. Non so se è chiara questa cosa. Quindi l'espressione dovrebbe essere valutata nella sua profonda serietà, cioè il cristianesimo mi è utile, cioè perché mi aiuta a fare chiarezza sugli elementi che caratterizzano la mia vita. A fare luce sulla mia vita. E allora, se questo è vero, io dovrei tenermelo caro questo cristianesimo, cioè questa lampadina, questa luce, questo sole, me la dovrei tenere caro perché in ogni circostanza mi può tornare utile, soprattutto davanti alle scelte fondamentali della mia vita, mi può tornare utile a vederci più chiaro su quale direzione dare a questa benedetta vita. Questa cosa non si percepisce. Per cui io faccio fatica, io ragazzo, io anche persona magari che vengo in chiesa, io faccio sempre più fatica a vedere, a capire, a comprendere, a sperimentare l'utilità del discorso di fede per la mia vita. Quindi se una cosa non mi è utile, non mi serve, io facilmente la accantono. E una volta che l'ho accantonata, l'ho accantonata, cioè è difficile che ritorno indietro, perché è vero che poi il Signore trova il modo per venirti a riacciappare, non a riacciuffare, e gli esempi anche nella Bibbia non mancano da questo punto di vista. Però poi in realtà come questo possa avvenire e dove possa avvenire o se si può davvero realizzare, diciamo, tutte queste cose non dipendono poi di fatto dalla nostra semplice volontà o dal nostro industriarci. perché poi dopo alla fine soprattutto le persone che sono in un qualche modo impegnate nel campo dell'evangelizzazione devono anche cercare di capire, di comprendere come poter far sì che le persone che li sono affidate, sono loro affidate, con cui vengono a contatto, possano percepire l'utilità del messaggio di Gesù Cristo. cioè il compito del prete, il compito anche del laico impegnato è proprio quello, cioè cercare di aiutare le persone a percepire l'utilità di quel messaggio, cioè a percepire che quel messaggio è utile per la loro vita. E forse bisognerebbe ripartire dall'ascolto come spesso ci dice Papa Francesco, l'ha detto anche a noi giornalisti, no? Sì, però come fai a convincere l'altro ad ascoltare? No, no, ascoltiamo noi l'altro. Ascoltiamo noi le sue esigenze. Ascoltiamo noi i suoi pensieri. Sì, bisogna andarsela a recuperare l'altro ad ascoltare. Tu ti devi mettere sul suo piano e anche qua succede una cosa complicata, perché quel mettersi sul piano dell'altro, perché poi dopo, questa è l'operazione che ha fatto Gesù Cristo, è quell'operazione di Kenosi, che viene definita così, diciamo, teologicamente, Kenosi vuol dire l'abbassamento, una parola greca, cioè è l'abbassamento. Lui che era nella natura di Tio, prendi la linea filippesi, lui che era nella natura di Dio, non considerando se lo geloso, sguaglianza con Dio, spogliò se stesso, assumendo la nostra condizione umana, quindi addirittura Giovanni dice che ha preso la nostra carne, cioè la sarx in greco, che significa la realtà umana in tutta la sua fragilità, anche nella possibilità di corrompersi, cioè ha preso tutto di noi. E perché ha fatto il suo lavoro? Perché si doveva mettere al nostro livello per parlarci a tu per tu, per camminare insieme a noi, per condividere la nostra storia, perché tu, a uno che condivide la storia tua e anche le tue sofferenze, a uno così gli dai più facilmente retta. Se uno ti viene a parlare dall'alto, gli dici, vabbè, ma tu che ne sai? Tu come puoi capire la mia situazione, la mia storia? Cioè fai bene tu a parlare che vivi un'altra situazione, una cosa più semplice, eccetera. Vieni da un altro contesto, no? Tante volte le sentiamo, le diciamo queste espressioni. Lui si è messo al nostro livello. Però questa... E quindi quello che dovremmo fare noi, cioè per ascoltare, prendi la questione del sinodo, per esempio, che stiamo vivendo in questo periodo, per ascoltare, tu ti devi mettere sul livello dell'altro, cioè lo devi andare a trovare dove sta, devi porti, diciamo, devi porti appunto in un atteggiamento di ascolto, per farlo, devi dare credibilità all'altro, devi dare fiducia, non puoi fare lo schizzinoso, no? Perché anche là, cioè è bello aiutare i poveri, i poveri sono poveri, e il povero è uno che è sporco, è uno che si comporta anche male, è uno che non può essere inquadrato nei tuoi modi, quelli che ti piacciono a te, cioè l'altro è l'altro come è in se stesso, e quindi per approcciarlo lo devi approcciare e quindi accogliere per quello che è, non per quello che vorresti che fosse, e che è una storia complicata. Che succede quando fai questo? Allora, intanto è difficile che tu riesca a fare questo lavoro, proprio perché alla fine noi viviamo di slogan, poi quando dobbiamo andarle a mettere in pratica, ci accorgiamo che quella cosa ci dà fastidio, quella cosa non ci piace, quella cosa così, quella cosa così, e quindi già non riusciamo a metterci a livello di, ma c'è anche un altro guaio, per esempio questa cosa io l'ho notata, l'ho notata, però mi è capitato di rifletterci parlando con delle persone dopo la notte di Natale, perché qui ad Andrea in modo particolare c'è un problema che forse in altri posti non si vive così, io ho un ricordo della mia infanzia dove vivevo in un paesino di montagna, un'altra storia, un altro mondo, però anche là c'è nome di Natale a regola, eccetera, quindi tutte le portate, i dolci, le famiglie che facevano, tutte quante cose, poi noi eravamo una famiglia numerosa, eravamo sette persone a casa, quindi comunque era una festa già preparare tutto in casa senza invitare chissà quali parenti o aspettare chissà che cosa, perché già bastavamo noi a fare una comunione abbastanza importante, allora si faceva tutto, eccetera, dopodiché a mezzanotte tutti in chiesa, cioè la messa di mezzanotte, la messa di Natale non la si saltava per nessun motivo, tant'è che appunto poi parlavamo spesso dei natalini, dei pasqualini, cioè di quelli che andavano a messa solo a Natale, specie la notte di Natale o a Pasqua, specie la notte della veglia pasquale, dopodiché magari non ci andavano più, su qualche funerale, qualche battesi, un matrimonio. Qui ad Andria c'è un problema che sta messa della notte di Natale, che è la seconda messa per importanza di tutto l'anno liturgico, perché la prima è la veglia pasquale, non si riesce a fare, perché? Perché c'è il cenone, perché ci sono i figli, perché ci sono i parenti, perché non possiamo lasciare sono venuti gli amici, per cui la messa della notte tendiamo a non prenderla in considerazione. E quindi addirittura alcune chiese la volevano fare, anticiparla alle sette, altri magari non la vogliono fare proprio, tanto non viene a nessuno. e c'è questo problema. Allora, tu parli con i cristiani, anche quelli che vengono tutti i giorni in chiesa, quelli che tutte le domeniche stanno lì e non esaltano una, e allora dici, ma scusate, ma è possibile che noi non riusciamo la notte di Natale? Dittemi un orario, dittemi un orario, alle 11, alle 12, alle 1, alle 2 di notte, a qualsiasi orario voi pensate, noi possiamo fare questa celebrazione e la facciamo, perché è anche bello concludere questo festeggiamento, questo cenone. Tra l'altro stai festeggiando il Natale di qualcuno, quindi sarebbe bello festeggiare la nascita di qualcuno, e quindi questa cosa si dovrebbe concludere all'interno di una celebrazione eucaristica, quindi faccio sto pranzo, sta giocata, sta roba, stiamo insieme, poi concludiamo con il momento di preghiera, no? Sarebbe una cosa logica farla. Perché non riusciamo a farla? Ah, dice, ma io non posso esserci, perché ho i miei figli, ho i miei nipoti, mica li posso lasciare a casa e venire in chiesa. La riflessione che facevo è questa, mica posso lasciarli lì e venire in chiesa, allora io per non lasciare lì i miei figli e i miei nipoti non vengo in chiesa, quindi per mettermi al loro livello di fatto io non vivo quello che dovrei vivere. Allora, questo abbassamento, invece che essere utile, perché Cristo si è abbastato, no? Per racchiappare, per tirare su, perché lui si è fatto uomo perché non diventassimo dei, diciamo, per racchiappare pure l'ultimo di quelli che poteva prendere e portarlo su, quindi per agganciarlo, noi invece ci abbassiamo e ci facciamo tirare sempre più giù. E questa è la logica. Ecco perché alla fine diventa complicato e perché non riusciamo a tirare? Questa è la domanda che mi pongo. Perché evidentemente per metterti a livello dell'altro e poter mantenere l'altro al tuo livello, cioè per poter portare l'altro al tuo livello, tu devi avere una forte identità, cioè devi avere una base solida che quel livello tuo ha un valore per la tua vita, quella cosa è davvero significativa. Se quella cosa non è significativa per te o non lo è a tal punto che diventa più significativo stare lì con il tuo figlio, con il tuo nipote, con i tuoi amici, vuol dire che alla fine anche per te quel messaggio non è tanto un messaggio che illumina la vita. Ma questa è una riflessione che faccio io, non è detto che sia la verità che per tutti valga così, però quello che dico è una cosa su cui bisognerebbe in qualche modo riflettere, proprio perché anche quando il Papa parla dell'ascolto, appunto, dicevi tu, noi dobbiamo farci ascoltare, ma dobbiamo ascoltare. Quando parla dell'ascolto, io mi pongo il problema del fatto che noi dovremmo avere delle persone capaci, appunto, non solo di ascoltare, ma capaci di stare in contatto continuo e costante con la loro identità. Quindi possiamo dire che esiste una questione, un problema di identità che riguarda noi, che riguarda l'uomo, la persona, l'uomo, la donna, ma ti provoco anche il cristianesimo? Senti, è chiaro che la notizia è sempre la stessa, la bella notizia è sempre la stessa, no? Ma oggi abbiamo un problema di identità? Sicuramente sì, io penso di sì, perché... Che riguarda quindi sia i fedeli, ma anche, come dire, la parte ecclesiale, no? Sì, definisci cristiano, cioè, che cos'è cristiano? Chi è il cristiano? Cioè, in partire da questa cosa, cioè, se tu domandi a una persona qualsiasi, no? Cioè, ma non quelli che non vengono, perché anche quelli, molti ti diranno, io sono cristiano, sono cattolico, no? Non lo so, cioè, ti diranno, a me non mi interessa niente, trovi sempre gente, oppure io sono di un'altra parrocchia, o di un'altra religione, ma in realtà, la seconda maggioranza, dicono, sì, io sono cattolico, credente, no? Credente non praticante, no? Cioè, sempre... Comunque, trovi queste, le persone che ti rispondono in questi termini, però poi alla fine, dice, vabbè, tu sei cristiano, che cosa vuol dire per te essere cristiano? Ah, io non lo so, credi in Gesù Cristo, e vabbè, che significa credi in Gesù Cristo? Cioè, che vuol dire? perché la maggior parte della gente credere in Gesù Cristo significa sapere che c'è Gesù Cristo. Questa cosa, al contrario, mi capita, qualche volta la dicono omelia, mi capita con qualcuno che mi dice, ma tu ci credi nel diavolo? E io dico, no. Come non ci credi nel diavolo? Cioè, la parola di Dio è piena di... di riferimenti. di riferimenti. Gesù, scaccia i demoni, eccetera, tu non credi nel diavolo. so che c'è il diavolo, ma io non credo nel diavolo, perché l'espressione credere nel, tra l'altro credere nel, significa essere disposto a affoggiare, a fidarsi, di appoggiare la tua vita su. quindi io sono disposto oppure a dare credibilità a dare credibilità a trust e le trust inglese, a dare credibilità ad affidarmi, ad affidarmi, a mettere la mia vita, a fondare la mia vita sul diavolo, sul male, sul tentatore, sull'ingannatore. No. Allora, noi confondiamo il credo, la fede, quindi... Con l'esistenza, con la questione legata all'esistenza. Con un qualcosa che è legato, sì, a un sapere, cioè so che c'è il diavolo, so che c'è Gesù Cristo, quindi cristiano, sì, so cristiano, che vuol dire? Che credo che Gesù Cristo, cioè so che Gesù Cristo è nato, so che Gesù Cristo è il figlio di Dio, ma questa cosa, che cosa comporta? Che valenza ha per la tua vita? Che cosa ti dice? come orienta la tua esistenza? Perché se non la orienta vuol dire che tu non credi in, cioè tu sai che c'è, come so io che è vissuto Napoleone, che è vissuto Cesare, che ne so, no? Lo so che c'è stato, abbiamo dei documenti storici che è esistito una persona che ha fatto questo, questo e quell'altro, ma Cesare, Napoleone, eccetera, non mi hanno cambiato l'esistenza. Magari ci hanno lasciato dei valori che ne so, hanno modificato le sorti della storia e quelle modifiche hanno delle conseguenze anche nell'oggi, questo sì, in generale, lo possiamo affermare, ma a me, Cesare, Napoleone, che ne so, risceglie, c'è un caso altro personaggio storico, Rousseau, eccetera, non mi ha cambiato la vita, non mi ha orientato la vita, non è un faro, o non me la orienta, sì, non è un faro che mi illumina l'esistenza, o mi dà delle indicazioni su che cosa, sì, certo, qualche appunto personaggio magari ti aiuta a comprendere, ti dà la possibilità di avere degli strumenti di comprensione, quindi diventa anche lui o lei un faro che ti illumina, che ti può dare diciamo degli elementi per discernere, quindi per scegliere, ma è sempre qualcosa di parziale. Quando Gesù si presenta come io sono la luce del mondo, sta dicendo guarda che io sono quello che illumina l'esistenza, sono quello che te la rende inchiaro, te la svelo, l'alese, infatti a un certo punto lui dirà io sono la via, la verità e la vita, questa verità in greco l'ho ricordato qualche altra volta è aletheia, aletheia significa togliere il velo, lui è quello che toglie il velo, cioè ti leva l'opacità, ti fa vedere le cose come stanno e se lui è quello che ti aiuta a vedere le cose come stanno quindi ti dà gli occhiali per vedere la realtà e tu non puoi farne a meno perché se io mi levo gli occhiali non vedo più nulla o vedo opacizzato faccio fatica quindi ho bisogno di questi occhiali non ne parlerò tutti i giorni degli occhiali ma senza questi occhiali io vedo sfocato vedo male tra gli altri strumenti che abbiamo per fare luce ci sono anche evidentemente le scritture a cui abbiamo fatto riferimento più volte nel nostro percorso dei dieci comandamenti l'abbiamo fatto anche oggi allora come come utilizzarle perché utilizzarle perché poi quando lui dice io sono la luce dov'è che la luce la vai a trovare cioè se io devo studiare il sole e mi devo avvicinare in un qualche modo a sto sole devo trovare il nodo di poterlo di poterlo vedere studiare conoscere conoscere quindi di poterci interagire per poter interagire con sto sole ho bisogno quindi con sta luce ho bisogno di andare a sviscerare studiare ascoltare cercare di comprendere la parola attraverso la quale questa luce mi viene incontro che è la parola di Dio sostanzialmente tra l'altro quella parola di Dio caio logos sarx geneto dice Giovanni al versetto 1 14 del suo Vangelo e il verbo cioè la parola logos maschile perché non possiamo dare del femminile a Gesù quindi se no ma è logos dice il verbo complemento oggetto dove va a finire no logos è la parola caio logos e il logos è la parola sarx geneto è divenuta carne è diventata carne è diventato uno di noi quindi quella quella luce che diventa carne si manifesta nella parola perché lui la parola quindi è la parola con la quale io devo venire in contatto che mi aiuta a fare luce sulla mia vita non c'è altra modalità e quella parola quella parola va studiata approfondita letta in un certo modo non è un romanzo quella parola non è un libro scientifico non è un qualcosa da prendere la leggera è un qualcosa che va approfondito e meditato ed è un qualcosa che mi parla e che mi illumina l'oggi dicevo un tizio dice a tutti devi mettere davanti la parola a parte che devi cercare di fare silenzio devi devi darti tempo devi devi prepararti all'accoglienza di quella parola poi come quello che arriva io ho visto certe volte vedi certi cristiani che arrivano in chiesa come faceva Schumacher una volta ci arrivano sparati magari a metà messa qualche volta vedo qualcuno che entra poi si precipita pure perché si è scordato che deve andare a leggere oppure all'improvviso pensa di dover andare a leggere senza manco che si è preparato cioè come ci entri in questa come puoi vivere la preghiera l'incontro col Signore se tu ci arrivi con la fretta della tua quotidianità cioè senza manco un momento per sederti e cercare di fare un po' il punto della questione cioè cercare di capire dove stai con chi stai alla presenza di chi stai cioè è bisogno di svuotare un po' la tua mente da tutto quello che c'è dentro da tutte le questioni che ti porti nella quotidianità cercare di trovare il modo di interloquire stacchi con cioè se io voglio parlare con te adesso devo spegnere i cellulari devo lasciar perdere di parlare con altri cioè ti devo prestare attenzione per prestarti attenzione devo far tacere tante altre cose se no tu parli e io manco ti ascolto viceversa quindi c'è bisogno di fare questa cosa e la parola che è una parola particolare parola di Dio quindi ha un valore infinito fondamentalmente quella parola ha la capacità di essere vera per il mio oggi se io se io calo il mio oggi in quella parola cioè se io confronto il mio vissuto la mia situazione faccio il punto della mia situazione alla luce di quella parola di quella parola di quello che quella parola mi dice e per farlo però ho bisogno di leggere la parola in maniera particolare ci sono delle bibbie tipo la bibbia di Gerusalemme che è una delle delle meglio fatte diciamo da questo punto di vista che mi aiutano in questo perché la parola si spiega già quella parola acquista maggiore possibilità di comprensione se io collego alcuni versetti con altri versetti che magari vengono prima oppure diciamo arrivano dopo nella nella composizione no nel nel modo in cui diciamo i libri sono disposti all'interno della bibbia perché la bibbia poi la bibbia pensavo sia un'unica realtà ma è una è un insieme di libri la bibbia no quindi c'è una disposizione che questi libri hanno allora ci sono delle note a margine ci sono dei dei richiami a margine più che delle note ci sono dei richiami a margine dei versetti che vengono richiamati normalmente su altri versetti quei versetti sono lì ti vengono richiamati perché alla luce di quel versetto che ti viene richiamato quel versetto acquista un altro sapore e a loro volta quei versetti che vengono richiamati magari hanno altri rimandi quindi da lì sono come una specie di link per chi è abituato a cliccare sulle pagine internet no tu clicchi sul link e quel link ti porta da un'altra parte quell'altra pagina dove vai magari ha un altro link che ti riporta da un'altra parte quindi parti da una parte magari chissà dove vai a finire ma qui non si tratta di cliccare all'infinito si tratta di cercare di far parlare quella parola nell'oggi diceva qualcuno tu devi metterti al cospetto era partito da questo poi non l'ho detto più al cospetto quella parola e dire quello che Eli suggerisce a Samuele di dire dice se senti quello che ti chiama di a lui parla signore che il tuo servo ti ascolta cioè parlami signore fammi capire che cosa vuoi oltre a quei rimandi a margine quindi oltre ai versetti che vengono chiamati alcune volte ecco per esempio la Bibbia di Gisusalemme o la Tob ci hanno delle note a pie pagina delle note che cercano di spiegare alcuni versetti cercano di illuminare alcuni versetti e queste note ti possono tornare utili anche qui nella comprensione allora il discorso è che dovremmo cercare di avere familiarità con la parola la parola non si legge così di continuo tante volte basterebbe prendere un versetto partire da quel versetto seguire questi rimandi e seguendo questi rimandi cercare di comprendere di capire che cosa quella parola può dire al mio oggi facendo così quella parola piano piano magari all'inizio è difficile ma quella parola piano piano può incominciare a diventare utile cioè illuminare davvero la la mia realtà di vita può aiutarmi a discernere che cosa è bene che io faccia che cosa non lo è grazie padre Francesco per la catechesi di questa puntata grazie a voi per averci seguito buon proseguimento con i programmi della rete grazie a tutti